Salve a tutti e benvenuti in un nuovo episodio del Let's Play di Planet Explorers. Andiamo a vedere se gli altri stanno bene. Per Dio C'ha in spegni sto schifo. Grazie. Untold riches? Who wouldn't want that? I lost my parents when our transport ship was hit by a Martian torpedo in the 80-day war when I was 11, so I had nothing holding me back. Though if someone had told me that we would crash land and be in this mess, I might have thought about it for a couple seconds. Well, I didn't see anyone on my way to the crater, but with the trajectory, the lifeboats were going. And there should be some lifeboats that way. Maybe you should go take a look. Here, let me mark it on your map. Yeah? I'll go take another look there tomorrow. There are other, more troubling possibilities for David's disappearance. Hello. I've always wanted to be in space exploring, but my family was poor, so I never got the chance when I was young. Before you know it, I'm past 60. One day I saw the sign up for the colony missions on the net and just filled it out. I pretty much left everything behind to live a dream. And now it's turned into a dramatic nightmare. I told you before that there were lifeboats that landed to the west of here. You should probably go and see if there are any survivors. I'll stay here until Gertie gets better. We need to start considering the long-term strategy here. If there aren't too many survivors, we will have a hard time lasting until the next ship arrives. I think we need to find a way to go to where the epiphany crashed. Before that, we need to regroup with all the survivors around here. That'll be your job. Every journey starts with a single step. And also a lot of preparation. We are on the Galileo continent. The ship's most likely over on the Newton continent. How do you propose we get over there? Swim? Against all these giant hungry fish species we've seen from the Satsang. We need to gather more people first to create whatever we need to cross the ocean. Set up a base camp somewhere safe. And we can all move there to plan our next move. It's better than having a bunch of splinter groups roaming around. I'm a lot better, thanks to your help. I'll be walking on my own in no time. Well, I was working in a government lab trying to synthesize garbage into protein. It was driving me up the wall. Then my brother got the assignment to come here as the head of security. And I jumped at the chance to accompany him. So here I am. Almost everything's carbon-based that we know of anyway. So you can eat and digest pretty much anything here. Now whether they're safe to eat is another matter that will require further research. How's it going? More like a mushroom. I don't know, but he's a tough guy. You shouldn't go down that easily. Still, you never know in a place like this. There's a red corner next to the north of here that I want to check out. You know, just to make sure. I would like you to accompany me. I'll give you a grenade script to get you prepared. Ok, I've marked it on your map. Dopo essere tornato al cratere per fare rifornimento di proiettili per le torrette e di fucili ci siamo quindi diretti al nido dei red corona per cercare su lì. Come forse avrete visto, con l'ultimo rilascio del gioco ora la musica di China è un po' meno fastidiosa, ma se non altro ora ho capito a cosa serve. Ad un certo punto del gioco infatti China ci darà una missione che, se superata, eliminerà la sua musica assurda e soprattutto ci permetterà di usare il suo lettore musicale per riprodurre nel gioco la musica che vogliamo noi. Ovviamente non vedo l'ora che questo evento si avveri. Con questo let's play, come potete vedere, ho praticamente completato la traduzione di tutti gli oggetti del gioco. Con l'ultimo fallo di traduzione allegato a questo video potrete quindi di fatto giocare in modalità avventura e creativa praticamente con tutto il gioco in italiano. Mancano solo i dialoghi degli ennepici da tradurre, che però in queste modalità non sono indispensabili e saranno man mano tradotti andando avanti con la campagna. La traduzione di questa immensa mole di dati in così poco tempo è stata possibile grazie ad un particolare comando per il database SQLite che permette di tradurre determinate frasi o parole in automatico tutte le volte che si ripetono nel file. La conseguenza di ciò è che alcune frasi o parole della campagna non ancora tradotte potrebbero avere delle parole già in italiano. Questi errori verranno poi corretti quando ci agirò manualmente. È importante invece che segnaliate gli errori di questo o d'altro tipo che trovate nelle parti già tradotte in italiano, così che possa correggerli. Quale è questo posto? In ogni modo, bisogna andare al nesto e guardare qui, quindi dovremmo mantenere i coronari o prenderli fuori. Questo sembra abbastanza buono. Pensi di qualcosa? Idee? Ma che idee? Le idee sono per i deboli o per quelli che non hanno un arsenale. Al mio segnale scatenate l'inferno. BING 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti